Si allarga il gruppo consigliare del movimento politico CONN all'interno del consiglio comunale di Trani. Sei consiglieri, tutti provenienti da liste civiche che sostenevano il sindaco Amedeo Bottaro nelle ultime amministrative, passano a CONN che quindi, con ben nove rappresentanti all'interno della massima assise cittadina, diventa il partito numero uno dell'attuale maggioranza. La nuova squadra è composta da Luigi Cirillo, Patrizia e Savino Cormio e poi da Antonio Loconte, Giuseppe Mastro Totaro e Antonio Befano, che vanno ad aggiungersi ai tre consiglieri che erano già presenti nelle file di CONN, Claudio Biancolillo, Giuseppe Corrado e Vincenzo Toputo. Ieri sera l'ufficializzazione con un incontro ospitato presso il locale Pelle d'Oca, dove è stata presentata la nuova formazione allargata, a conferma di un rinnovato appeal del movimento politico sul territorio. Avevamo detto durante la presentazione della coordinatura regionale Michele Boccardi che avremmo battuto il territorio per riscontrare consenso, non solo elettorale, ma soprattutto consenso mentale, se mi permettete questo termine. Stiamo girando la provincia in lungo e in largo e grazie alla bravura del coordinatore regionale, l'Avvocato De Feudis, siamo riusciti anche a Trani, dove eravamo già presenti, a implementare il gruppo consigliare con altre entrate consigliari. Sono convinto che oggi parte da Trani un tour per tutta la provincia che ci vedrà in tutti i comuni della BAT per implementare ancora di più quella che è la squadra di amici che compone CONN. Il nuovo scenario del Consiglio Comunale di Trani non produrrà nessun tipo di stravolgimento negli attuali assetti di governo, assicurano da CONN, ma al contrario, conferma la solidità dei rapporti con l'amministrazione guidata dal sindaco Amedeo Bottaro nel segno dell'unità e della continuità. Con l'attuale amministrazione non cambia assolutamente nulla, anzi questa operazione mira a rafforzare l'azione dell'attuale amministrazione. Noi riteniamo che con l'ingresso di questi sei vogliamo dare un segnale di unità e far comprendere che unirsi può essere una formula vincente. In un mondo che si divide sempre di più noi vogliamo giocare per l'unità.